La sua parte intima di partecipazione, di riflessione è rimasta intatta, non è più bello come una volta, non credo che abbia più tante, anzi spero, perché sennò sarei troppo invidioso che abbia più tante avventure femminili, però gli è rimasta questa passione che come si diceva all'inizio era divisa, erano due passioni, erano due verità opposte, il cinema in quanto cinema, il pensiero ispirativo in quanto pensiero ispirativo e che sotto, forse anche per far dispetto o per fargli piacere a Dino De Laurenti se le abbiamo unificate. In lui queste due cose in questo momento sembrano ancora presentissime tutte e due, ma ancora divise e tant'è che poi proseguimmo a vederci, a parlare, poi ci siamo visti tante volte con Luciano Vincenzoni anche indipendentemente dal lavoro, all'epoca ci si frequentava fra autori, eravamo legati anche tutti e tre a Sergio Amidei che era il vero maestro poi della commedia, è stato il vero maestro della commedia, trasferita nel cinema, commedia politica diciamo, per semplificare il discorso. E poi invece abbiamo lavorato, perché è lui che ci, lui cominciò a lavorare per Pietro Germi, altra natura particolare, composita anche quella di Pietro Germi, fatta di passione per la realtà, per il dramma umano e al tempo stesso questa forte, anche in lui, questa forte passione per cinematografare ciò che accadeva, ciò che poteva accadere. E allora ha avuto dei trapassi dal dramma, Pietro Germi, dal dramma ha sentito, perché aveva un orecchio finissimo, che la commedia, la commedia seria, la commedia in cui era presente l'ironia drammatica, arrivava ad emozionare lo spettatore, che noi chiamavamo sempre lettore, perché ci limitavamo a scrivere, più del dramma drammatico. E allora Germi cominciò, anche su spinta di Luciano Vincenzoni, a percepire la necessità di passare, senza perdere la sostanza drammatica, a passare alla commedia. E allora prima Sedotta è abbandonata e poi Signori e Signori.